Cos'è la psicosintesi? La psicosintesi è un ramo della disciplina della psicologia che fondi elementi psicologici e spirituali. I praticanti di psicosintesi credono che una parte importante del trattamento sia aiutare le persone a diventare spiritualmente e psicologicamente integre e ad esplorare i modi in cui le persone armonizzano i vari aspetti di se stessi. Le persone che sono interessate alla psicosintesi come forma di terapia possono trovare professionisti in molte regioni del mondo. Questo approccio è stato sviluppato nei primi anni del 1900 da Roberto Assagioli. Era affascinato dalla psicoanalisi, ma sentiva che la psicoanalisi da sola non era abbastanza per beneficiare i pazienti, poiché si concentrava su problemi psicologici, ma non si rivolgeva a quelli spirituali. L'approccio di psicosintesi di Assagioli è stato adottato da un numero di professionisti, ed è stato ampliato e ulteriormente sviluppato nel corso degli anni. La pratica della psicosintesi si differenzia dallo sviluppo personale o psicologico e dallo sviluppo transpersonale o spirituale. Entrambi gli aspetti dello sviluppo sono ritenuti importanti nella psicosintesi e possono essere esplorati in diversi modi, con il professionista che adotta l'approccio ai bisogni del paziente. Le opzioni di trattamento possono includere la semplice terapia della parola, la produzione di arte e la discussione di testi spirituali. Un aspetto chiave della consulenza psicosintetica è l'esplorazione di diagrammi sviluppati da Assagioli per aiutare a visualizzare il processo. Gli EGG Endostar Diagram sono probabilmente i più famosi e più utilizzati, illustrando l'unione di elementi personali e transpersonali e aiutando le persone a lavorare attraverso le fasi del loro sviluppo. Nel corso della terapia, terapeuta e cliente lavorano insieme per identificare le aree in cui il cliente può aver bisogno di lavoro e esplorano i modi per arricchire lo sviluppo personale. Alcune persone apprezzano questo approccio alla terapia perché sentono che un approccio puramente psicologico non soddisfa pienamente i loro bisogni. I clienti che lottano con problemi spirituali e vogliono un'opportunità di discutere o di lavorare possono trovare nella psicosintesi un approccio più equilibrato, poiché riconosce i diversi aspetti dello sviluppo personale nel suo complesso, piuttosto che concentrarsi sull'uno o sull'altro. Come per molti altri tipi di terapia, la psicosintesi non ha luogo in tempi brevi. Idealmente, terapeuta e cliente lavorano insieme per un periodo prolungato, a volte per per mesi o anni, mentre scoprono sequenzialmente i problemi e approfondiscono i vari argomenti. Alcune persone credono che la terapia non sia mai veramente completa, perché le persone sono in costante evoluzione e la gente non dovrebbe assolutamente andare in terapia con idee fisse su quanto tempo ci vorrà.